Evanessence è un edificio vegetato che si realizzerà nel centro di Montpellier. Montpellier è una città che ha una grossa tradizione nell'innovazione relativamente al verde integrato nella città attraverso soluzioni basate sulla natura. È una torre vegetata che avrà al suo interno anche delle serre e sarà rivestita completamente di vegetazione, in parte alberi, in parte rampicanti e arbusti ricadenti che sono stati scelti e selezionati con un occhio alle condizioni climatiche tipiche del Mediterraneo, ma anche un occhio alla tradizione della città. In progetti come Evanessence dobbiamo anzitutto pensare a quali sono le esigenze della vegetazione. Dobbiamo porci nelle condizioni di mettere le esigenze della vegetazione al primo punto, al centro del processo di progettazione. Questo vale soprattutto per gli alberi. Noi conosciamo gli alberi, conosciamo le loro capacità di adattamento, le strategie che mettono in campo e quindi siamo in grado di disegnare questi edifici in maniera da poter soddisfare le loro esigenze. Scegliamo gli alberi in funzione delle loro dimensioni di sviluppo, delle loro capacità di resistere alle diverse condizioni atmosferiche, la loro plasticità e la loro resilienza alle diverse condizioni di sviluppo all'interno dell'edificio. In questo modo, ponendoci quindi dalla parte della vegetazione, dalla parte delle piante, riusciamo a soddisfare le loro esigenze in primis e quindi a consentire loro di prosperare e di fornire tutti i benefici che l'integrazione fra il verde e il luogo dove l'uomo vive possono portare. I vantaggi dell'inverdimento degli edifici sono molteplici. Andiamo dai benefici ambientali, perché indubbiamente c'è una riduzione delle temperature, lo spazio esterno dell'abitazione diventa sicuramente molto più vivibile, come è possibile anche osservare vivendo edifici come il bosco verticale. Nelle giornate più calde si riesce tranquillamente, giornate calde come quella di oggi o come quelle di questo periodo, si riesce a vivere sulla terrazza, sul balcone in condizioni di assoluto confort climatico. Abbiamo poi dei benefici indiretti anche per la città, perché questa vegetazione abbassa comunque complessivamente le temperature all'intorno dell'edificio e quindi anche se l'edificio è molto efficiente dal punto di vista energetico, sicuramente questa ottimizzazione ha un effetto benefico per la città, perché riduce l'isola di calore. In aggiunta non trascuriamo quelli che sono i benefici psicologici del vivere a contatto con una, diciamo così, con un tassello di natura che cambia giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, in seconda delle diverse condizioni climatiche, qualcosa che cambia in continuazione e che ti aiuti a riconnetterti con i cicli della natura e, diciamo così, a rimettere un attimo i piedi per terra, per noi umani che siamo tendenzialmente portati a correre in maniera eccessiva e a dimenticarci che facciamo parte di un unicum. Penso che vivere a contatto con la natura in un modo così stretto e partecipe, un contatto che è più che quotidiano, sia fondamentale per il nostro benessere psichico. Ci sono moltissimi studi che testimoniano come avere un contatto quotidiano con la natura sia di aiuto per il nostro benessere psicologico e non serve tantissimo tempo, bastano pochi minuti al giorno, basta anche osservare, non necessariamente interagire o essere all'interno della natura. Basta effettivamente riconnettere quella parte di noi che forse abbiamo dimenticato. Del resto, nella nostra evoluzione, noi abbiamo passato il 99,99% del tempo come esseri umani a contatto con la natura, interagendo con esso. È solo recentemente che abbiamo perso questo rapporto, ma il nostro cervello non si è modificato nel frattempo. Ne abbiamo ancora bisogno, forse non ce ne rendiamo propriamente conto, ma ne abbiamo ancora un assoluto bisogno. Stiamo ancora seguendo, a più di dieci anni dalla realizzazione, l'evoluzione della vegetazione del bosco verticale che è qui alle mie spalle. Abbiamo imparato moltissimo, ma in questi anni abbiamo imparato come da subito questa vegetazione abbia accolto altre forme di vita, anche le più inaspettate. Abbiamo avuto nidificazioni, ci sono uccelli migratori che si fermano nel periodo delle migrazioni per riposarsi e anche per nutrirsi, perché nei piani più alti abbiamo creato appositamente delle nicchie proprio per loro. Abbiamo imparato come la vegetazione cresce e si adatta, che queste dinamiche sono complesse sicuramente, vanno lette, vanno interpretate. Abbiamo imparato come il rapporto che si crea fra il residente e il suo tassello di natura sia particolarmente forte. Questo rapporto è mediato soprattutto proprio dalla figura dell'albero, dell'albero che ciascuno osserva magari al primo risveglio del mattino e che un giorno è in fioritura, un giorno ha un uccello che si posa sui rami, il giorno dopo si muove con le fronde al vento. Cioè questo rapporto continuo, costante, sicuramente sta crescendo nel tempo e sta rafforzando anche la volontà di mantenere questo sistema in condizioni ottimali, di avere più alberi, di avere ancora più verde di quello che già c'è. È come un bisogno che viene ad autoalimentarsi e a crescere progressivamente. L'inverdimento degli edifici offre molteplici opportunità per migliorare l'ambiente delle nostre città, soprattutto in un'ottica di cambiamento climatico. Infatti il verde integrato agli edifici può avere degli effetti benefici, sia dal punto di vista dell'efficientamento energetico dell'edificio stesso, sia perché può raccogliere e immagazzinare acqua e restituirla poi con lentezza ai sistemi di scarico, senza sovraccaricare le reti già congestionate della nostra città, può agire in modo efficiente abbassando l'isola di calore, produce ossigeno, immagazzina CO2 e ospita biodiversità all'interno delle città. Oltre a questi benefici ci sono anche quelli legati al fatto che c'è anche una forma di abbellimento e anche una forma di mitigazione dell'effetto di densificazione che edifici possono suscitare, soprattutto quando si tratta di edifici alti come questi, edifici residenziali alti. Però il vantaggio di svilupparsi in altezza in certe situazioni, in certi contesti è anche legato al fatto che sviluppandosi in altezza si lascia più spazio libero per lo spazio pubblico in generale o per giardini come questo che possono essere fruiti in modo diverso. Quindi esistono innumerevoli vantaggi, uno di questi è anche il fatto ad esempio che si moltiplicano le opportunità ed è per questo che quando si progetta un edificio vegetato si deve anzitutto pensare a perché lo si fa, qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere in quanto il verde ha delle caratteristiche di multifunzionalità ben determinate e ben precise che possono essere anche preventivamente calcolate, misurate, quindi possono essere effettuate delle valutazioni anche sui benefici a lungo termine. E quando si identifica il motivo per cui questo si realizza è possibile scegliere fra le innumerevoli soluzioni che la tecnologia, chiamiamola così ma in realtà è la natura, ci offre.